ok ragazzi quest'oggi andremo a parlare di due notizie importantissime nel mondo delle mma italiane la prima è il ritorno sull'ottagono ufc di alessio de chirico notizia ufficiale e la seconda è la vittoria di carlo pedersoli jr nonché nipote di bud spencer nel cage horror 92 andiamo a parlare della prima notizia ovvero il tanto atteso ritorno nella gabbia ufc di alessio de chirico contro julian marquez che avverrà il 6 luglio al tuf 27 finale quindi una card con un sacco di telespettatori perché come sapete il tuf è il reality show dell'ufc che in america va tantissimo e che quindi a un sacco di telespettatori che potrebbero diventare potenziali followers nel caso alessio si portasse a casa la vittoria magari con un k o detto questo proviamo analizzare un po il match io sono andato a vedere un paio di incontri di julian marquez e ragazzi devo dire che ci ha delle mani parecchio pesanti quindi insomma il match si prevede con un bello scambio in piedi e non è un match assolutamente facile perché marquez è un 7 a 1 ha dimostrato di avere le mani pesantissime è un fighter parecchio parecchio pericoloso tuttavia tuttavia vedo favorito il nostro alessio perché comunque può vantare un grappling migliore rispetto a quello di julian e quindi potrebbe cambiare le sorti del match nel caso si trovasse in difficoltà a scambiare troppo in piedi detto questo andiamo a parlare della seconda notizia ovvero la vittoria al cage warrior di carlo pedersoli jr devo essere sincero ragazzi carlo pedersoli non l'avevo mai visto combattere perché mi risulta difficoltoso seguire i fighter italiani in quanto molto spesso combattano in promotion che non hanno diritti televisivi e che quindi sono impossibili da seguire se non raggiungendo le card fisicamente perciò non avendolo mai visto combattere sono rimasto parecchio impressionato in quanto si è dimostrato un fighter di livello assoluto ha dato vita a uno spettacolo incredibile è riuscito a portare un sacco di colpi bellissimi in piedi una tecnica devastante a terra un fighter molto molto creativo tuttavia non è stato sinceramente troppo dominante perché i primi due round per quanto mi riguarda sarei portati a casa assolutamente mettendo a segno nel primo round dei bei colpi nel secondo round dominando completamente sia le fasi in piedi che le fasi a terra per dire ha atterrato l'avversario dalbi con una pedata in faccia bellissima fintando un overhead a terra ha provato dei tentativi di sottomissione tipo non lo so una figure for leg tipo quella del wrestling non so che mostra di sottomissione era quella perché era veramente inusuale e stava quasi riuscendo tuttavia nel terzo round ha subito un pochino lo sprint dei primi due e ha incassato parecchi colpi molto pericolosi a un certo punto stava andando anche KO e perciò la split decision effettivamente ci stava però se dobbiamo guardare dal punto di vista del marketing il suo stile del combattimento rientra nei canoni della promotion principale pertanto non mi stupirei se ricevesse una chiamata da parte di UFC nei mesi a venire detto questo noi ci vediamo nel prossimo video dove parleremo della fight card più importante dell'anno quella che vedrà contrapporsi Daniel Kormier l'attuale campione dei pesi medio massimi contro Steven Miocic l'attuale campione dei pesi massimi in una fight card contornata da atleti di assoluto prestigio quindi ragazzi non mancate e iscrivetevi al canale